Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale in questo video voglio mostrarvi l'ultimo acquisto che ho fatto su sito Joom vi ricordo prima di iniziare il video che nell'info box lascerò il link per poter acquistare questa action figure di Yukino andiamola a vedere insieme nei particolari allora vi ricordo che questo sito Joom è un sito cinese dove potete acquistare tutto quello che volete a livello di abbigliamento, sport cose per bambini collane, tutto quello che volete andiamola a vedere nei particolari le scarpe guardate, è fatta molto molto bene non ha nulla a togliere a quella originale diciamo che questo è un doppione riprodotto dai cinesi vediamo se si riesce a vedere pure i particolari degli orecchini molto 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 bella il viso pure è fatto abbastanza bene mi è piaciuta molto allora andiamo a vedere la sedia carina anche questa poi ha questo piccolo panda che in mano ha una bottiglia e poi in bocca ha un ramoscello questa è la base l'ho pagato intorno ai 14 euro per chi è amante delle action figure vi conviene acquistarli su sito zoom perché voi sapete che su altri siti purtroppo costano un botto di soldi quindi non conviene meglio sempre risparmiare un po' molto carina io vi ho fatto vedere anche altre action figure che ho acquistato di Dragon Ball se voi ricordate che dire spero che questo video vi sia stato utile lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con tutti i vostri amici e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video ciao ragazzi